Un tempo era sinonimo di periferia, oggi l'isolotto a Firenze è un rione residenziale lontano dalle cronache nere degli anni 70. L'omonima piazza davanti alla chiesa ha vissuto una giornata di festa al termine di lunghi lavori di restyling costati 3 milioni di euro. C'era una signora che ha detto sindaco l'era l'ora perché ovviamente ci sono stati un po' di ritardi legati al covid e qualcun altro ha detto che la pezzilina non era molto bella però ripeto ormai sono sindaco a sette anni, conosco i miei cittadini, i fiorentini sono così, per dirti che una cosa piace ti dà anche sempre qualche suggerimento su cosa migliorare. La pavimentazione in pietra realizzata con materiali diversi provenienti da tutta Italia a simboleggiare l'integrazione di cui nei decenni il quartiere era stato un vero e proprio laboratorio sociale. È una piazza adesso a misura d'uomo, è stato tolto tutto l'asfalto, è stato riorganizzato lo spazio commerciale, è stata realizzata quella che è un po' la star di tutta la piazza, la pensilina a forma di vela. Dinanzi alla celebre passerella che collega le cascine sull'altra sponda dell'Arno, ecco la nuova area mercatale che si era fatta in look con una copertura a specchio. Cassonetti integrati, illuminazione architettonica, servizi igienici pubblici e pilomat per l'ingresso alla nuova area pedonale completano l'opera. Ora sembra ridata. Per noi anziani è stata la cosa migliore che hanno potuto fare. Veramente è incredibile.